ragazzi un po di tempo fa ho creato un canale telegram telegram è un messenger fantastico è da tanto tempo che ci pensavo e qualcuno già entrato però non riuscivo a dirvelo questo canale non sarà un doppione di instagram ma sarà progettato è stato progettato più che altro per starci un po più vicini per interagire meglio anche tramite messaggi vocali se avete delle domande generiche su qualsiasi cosa ed ecco in realtà pensiero principale era è quello di postare li materiali gratuiti magari qualche pdf qualche file e altre cose per poter scaricare perché da instagram non è possibile scaricare nulla saranno pubblicati post migliori quelli più utili che piacciono di più o anche su vostra richiesta se vi piace qualche post in particolare posso spostarlo su instagram perché da lì è molto facile scaricare tutte le immagini e tutto il materiale quindi cliccate sul link in bio andate sul link del telegram e entrate canali è gratuito chi non ha telegram installate è gratuito ed è fantastico molto semplice utilizzare